sia lodato gesù cristo benvenuti fratelli e sorelle questo è un video che caricherò tutte le sere sul mio canale youtube così come lo stesso video della coloncina della divina misericordia e oggi volevo parlarvi dei libri che ho ricevuto quindi anche questo qua delle scorte di cibo delle piante medicinali e non so se si vede e i libri che trovate qui in sovraimpressione sono tutti libri che dispongono ovviamente di informazioni che si trovano su internet però ci troviamo nel tempo nel quale la santissima vergine maria nostro signore gesù cristo il nostro amato san michel arcangelo ci stanno invitando attraverso vari mistici ad avere tutte queste informazioni in formato cartaceo perché sta arrivando il tempo cioè quello della guerra delle imposizioni dell'anticristo dove poi non riusciremo più a trovare questo tipo di informazioni ecco che ho messo insieme tutte queste informazioni attraverso l'avvertimento universale che ho qui quindi qua in questo libro ci sono tutte le informazioni che riguardano i mistici che hanno parlato dell'avvertimento universale sono libri ovviamente con una copertina molto carina fatti nel miglior modo possibile a un prezzo accessibile costano tra i 9 e i 12 euro è così senza che ci dobbiamo riempire di fotocopie in questo modo abbiamo la possibilità di avere a disposizione le informazioni più importanti ed essere preparati alla fine dei tempi all'anticristo alle varie malattie che sono le porte con questi con l'informazione perché come gesù ci ha detto nel vangelo la verità ci fa liberi quindi per favore non riduciamoci all'ultimo momento e poi qui ho inserito anche questo libro meraviglioso che parla della vita inedita della santissima vergine maria un libro che prende spunto ovviamente dal dalla rivelazione della divina volontà rivelata luisa picareta e attraverso questo libro potrete conoscere veramente la vita inedita della santissima vergine maria e come e come ella è stata scelta fin dalla nascita dalla divina volontà e attraverso la divina volontà è diventata madre di dio madre di tutti noi e regina dell'universo e poi ci sono tutti gli altri libri come questo qui dell'apocalisse dove viene spiegata attraverso le rivelazioni di maria valtorta e don stefano gobbi tutto quello che riguarda l'apocalisse quello che stiamo vivendo oggi qui c'è la rivelazione dell'angelo della pace attraverso le rivelazioni di fatima di ruzzo e maria e infine abbiamo il libro dedicato anche all'alba dell'anticristo ecco vi lascio in descrizione questo link che troverete sotto tutti i miei video dove accederete a questa pagina e dove cliccando ovviamente sui vari link che troverete in questa pagina potrete accedere poi ai libri e acquistarli tramite amazon e quindi poi le riceverete in breve tempo nelle vostre case mi farebbe piacere se questo video e questi libri ovviamente anche questo link viene conosciuto viene fatto conoscere dai vostri amici familiari parenti tutti coloro che comunque credono nella santissima traità e la vergine maria per mezzo di nostro signore gesù cristo degli angeli degli arcangeli e che sono comunque informati sulla fine dei tempi perché in questo modo ci possiamo proteggere e possiamo restare informati con queste informazioni che sono volute dal cielo questo non è business questo non è essere mercanti del tempio questo è fare la volontà di dio cioè far conoscere ai miei fratelli e sorelle al pubblico questi libri che ho scritto e sto scrivendo mancano ancora diversi libri per far conoscere la volontà di dio per far conoscere gli eventi futuri gli eventi attuali e per favore aiutatemi non sto chiedendo non sto chiedendo e non sto vendendo libri a 50 100 200 euro non faccio neanche conferenze non mi interessano quello che mi interessa e continuare a parlare dei messaggi mariani delle apparizioni mariani spiegarli e soprattutto piacere a dio fare la sua volontà e rinunciare a tutto per la sua gloria sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria vi porto nelle mie preghiere e se volete lasciate un mi piace e un commento anche una intenzione di preghiera no Grazie a tutti.